Bambini! Muoviti! Attiro! A poi dagli legnati me l'ha passata E' l'unico che si è scavato come sassi Ma dov'è? Guarda lì! Qui è il tuo sassi Poi l'ha preso questa sassi l'hanno messo sotto Stava arrivando Stefano e glielo ho tirato via Bastardo mi ha detto Non è una cosa, devi solo arrivare di giusto E tu devi arrivare da qua Se arrivi da qua! Grazie al cazzo! Ma se arrivi da qua! Adesso ti fa vedere il Benelli Guarda bene il giro che deve fare però Guarda bene! Viglia sta cercando un posto a nascondersi Tanto lì non lo fa nessuno Ma perché ho parlato di lanciare i sassi? Sì! Bravo! Il sasso del zampo! Vuoi provare? Eh! Rospiti! Eh! E' messo il piede là a girare! Ma che credi che non l'ho visto! Stringi! Stringi! Stringigliela ancora! Stringi! Va dove hai passato! Stringi! Non voglio che ti sposta la volta! Guarda ti fanno senza spostamenti! Ma per dire no no no! Stringi! Cazzo devi stringere! Dove sono i colleghi? Eh! Ma che spostavo! Continua da lì non lo faceva! Da lì eh! Ma finisci da lì! Così! Arriva! Arriviamo! Ma sono messo con l'Urenzica! Lì mi chiede per bagliastone del 1948! Vedi come... Vedi come si fa a pulire i sassi! È arrivato alle 6! Così! È arrivato alle 6! Alle 8 l'ho mandato a casa! Non chiudere! Ho tentato a chiedere! Ieri ho tentato anche questo lo Stefano! Guarda! Lì! Dov'è la Delia? La parte di qua eh! Lì arriva su dritto dritto eh! Ah! Sì! È arrivato! Molto qua! E lui era lì! Peggio no ascolta! 5 volte! Niente da fare! Piuttosto dove? Eh! Piuttosto dove? Qua è giusto perché è quello che si butta su! Eh ho capito! Ma devi anche atterrare dopo! Ma è l'arco! Se l'ha fatto come l'arco! Ma niente non ce l'ha fatto! Sotto una volta! Eh! Sembrano ma... Oh! Guardiamo la zona! Guarda la zona! Guarda la zona lì! Andai! Andai! Guarda la zona lì! Guarda la zonareri! Guarda la zona lì! Guarda la zona lì! Oh!